Capi di abbigliamento e accessori contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania durante due interventi eseguiti nei giorni scorsi all'interno di due attività commerciali. A far scattare i controlli della Guardia di Finanza, la denuncia è presentata da un commerciante che ha segnalato la vendita in un negozio del centro di Catania di capi di abbigliamento riportanti un noto marchio contraffatto. Ispezionato il negozio in questione, i finanzieri hanno effettivamente trovato e sequestrato 78 capi con loghi contraffatti. I controlli si sono estesi anche al fornitore, un'azienda di commercio all'ingrosso situata a Mister Bianco e gestita da una donna di 60 anni di origine cinese. All'interno del punto vendita all'ingrosso, le fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato 1200 articoli tra capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. I titolari delle due imprese commerciali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente per commercio di prodotti con segni falsi. La sessantenne grossista, non avendo dimostrato la provenienza della merce contraffatta, è stata inoltre deferita per ricettazione.